Con quasi 2 milioni di euro la fortuna ha baciato questo piccolo angolo tra Irpinia e Sannio. Si trova a Rocca Bacerana, la ricevitoria in cui è stata realizzata l'eccezionale vincita di ieri. Quasi 2 milioni, con una schedina semplice del Supernalotto, può andare da 3 euro e 15 euro. C'è il premio di 5 punti più 1, quindi sono 75 mila euro e quasi 2 milioni. Avete idea di chi abbia giocato? No, ovviamente no. Speriamo sia una persona della zona, insomma. Lì passano molte persone, quindi potrebbe essere chiunque. È un'attività fortunata, ci racconta Maria Paola Paliotti del Rendewoo Caffè di Rocca Bacerana, dove ieri è stata realizzata la doppia vincita da record, un 5 con Superstar da quasi 2 milioni di euro e un 5 da 75 mila euro. Incredulità ed entusiasmo nel punto di ritrovo lungo Lappia, dove agli abituali avventori si mescolano tantissime persone di passaggio. Molte persone sono venute curiose, hanno giocato, magari anche chi non aveva mai giocato, giusto per lo sfizio, insomma, di vedere se poteva vincere. Avete saputo della vincita? Sì, abbiamo saputo, sì, sì. Insomma, viene la voglia di giocare? Io ci tendo ogni tanto, quindi ci provo sempre, vediamo, può darsi che la prossima capiterà a noi. Sì, fortunato è il vincitore e auguri comunque. Adesso la stavo guardando. Bella fortuna. Bella di loro.